Un museo non abita un luogo ma dà vita a un luogo. Con queste parole Federica Zalabra, direttrice regionale dei musei d'Abruzzo che afferiscono al Ministero della Cultura, ha parlato delle azioni di potenziamento degli organici dei musei archeologici di Chieti, della Civitella e di Villa Frigeri, che consentiranno di prolungare gli orari di apertura delle sale espositive riorganizzando le attività alla luce delle 12 nuove assunzioni di personale AFAB, effettuate su concorso ministeriale. A presentare in conferenza stampa le novità derivanti dalla convenzione tra il Comune di Chieti, la direzione regionale dei musei e del Ministero della Cultura, è stato Paolo De Cesare, assessore comunale alla cultura e al turismo. Dopo un lavoro sinergico, in collaborazione appunto con la direzione regionale dei musei e il Ministero della Cultura, abbiamo portato a Chieti il direttore generale dei musei, il professor Massimo Sanna, abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio museale e già da quest'estate con il supporto delle unità PUC abbiamo consentito un'apertura maggiore, soprattutto nel weekend, una fruibilità molto più estesa dei nostri musei nazionali, che ha portato oggettivamente dei riscontri e dei benefici concreti in città, soprattutto per quanto riguarda le strutture ricettive. Oggi diamo una notizia che si aspettava da anni e che porta nuovamente i nostri musei a essere fruiti tutti i giorni, ad orario continuato, mattina e pomeriggio, grazie all'arrivo di 12 unità nuove di personale museale. Già dal 1 ottobre, grazie a queste 12 nuove assunzioni di assistenti alla fruizione, gli orari di apertura al pubblico di Villa Frigeri e della Civitella sono stati incrementati. Dal martedì alla domenica i musei archeologici di Chieti saranno infatti aperti al pubblico dalle 9 alle 19.30 con orario continuato, rendendo onore al grandioso patrimonio archeologico della città di Chieti, come spiegato al Tg8 da Federica Zalabra, direttrice regionale dei musei d'Abruzzo. Rispetto a come avevo trovato io lo scorso anno, che i due musei archeologici nazionali erano chiusi, adesso abbiamo la possibilità di aprirli. La chiusura dei musei lo scorso anno era dovuta proprio al fatto che non c'era personale. Il ministro della cultura ha fatto un concorso su base nazionale che ha portato nuovi AFAB in tutta Italia e anche l'Abruzzo è stato sede di nuovi AFAB. Qui nella città di Chieti si è deciso di far arrivare 12 unità e questo permette, insieme alle 6 già presenti, di aprire sia il museo della Civitella sia il museo di Villa Frigeri. I nostri due musei sono la punta di diamante del sistema museale dell'Abruzzo, soprattutto per quanto riguarda l'archeologia. Il guerriero di Capestrano, essenzialmente a Villa Frigeri, ma anche l'Ercole Curino e le altre opere che provengono dal territorio, perché non dimentichiamoci, la Villa Frigeri è proprio questo, il museo archeologico che raccoglie tutte le opere del territorio abruzzese. Mentre la Civitella, che è un luogo già di per sé particolarmente affascinante con l'anfiteatro, diventa il luogo dove poter entrare nell'antica teate.